Carissimi studenti dei vari istituti, licei, del progetto Euroscuola, innanzitutto complimenti, complimenti a coloro che oggi festeggiano la fine di un grandissimo percorso, 5 anni di formazione con grande senso civico, con grande senso etico, con grande apertura all'innovazione, le lingue che sono le caratteristiche dei vostri licei e delle vostre scuole ed è importante questo momento della consegna dei diplomi, un caro saluto ai ragazzi e un caro saluto alle famiglie. Io sono veramente molto dispiaciuto di non poter essere presente oggi con voi a Bergamo, degli impegni a Roma e sto partendo dagli Stati Uniti, quindi era veramente impossibile per me essere fisicamente con voi. Vi prometto che ci sarò la prossima volta, del resto ho già visitato il vostro istituto e credo anche che sia un momento importante perché è un passaggio di grandissima importanza. La vostra formazione vi permette di essere cittadini italiani preparati a affrontare le sfide della cittadinanza, affrontare le sfide del lavoro, affrontare le sfide dell'università, della formazione universitaria, affrontare quelle sfide che oggi richiedono un investimento sulla conoscenza e i vostri istituti, i vostri licei sono dell'eccellenza nella produzione di conoscenza. Voi siete i migliori testimoni, i migliori ambasciatori di quanto l'Euroscuola rappresenta oggi, quindi io vi auguro, vi faccio tanti complimenti, vi faccio un grosso in bocca al lupo per il vostro futuro e sono sicuro che sarà un futuro in cui porterete sempre con voi un bellissimo ricordo dei cinque anni che avete passato insieme nella vostra scuola. Di nuovo un caro saluto ai ragazzi, un caro saluto alle famiglie, un caro saluto a tutto il corpo docente e buona domenica a tutti.